Sì, è vero. Già a Lecce io avevo la sensazione che siamo una squadra forte. Abbiamo dimostrato già a Lecce che siamo una squadra fortissima, che possiamo giocare contro chiunque. E niente, questa in Lecce era la prima partita per me qua a Pescara e ora voglio continuare così, con la testa bassa. Anche oggi, oggi la vittoria è arrivata in un momento giustissimo, perché ora arriva la sosta e dobbiamo continuare così, con la testa bassa e niente. Dejan, complimenti perché hai fatto davvero un gran gol, però quella punizione la voleva battere Masciangelo all'inizio. Poi però sei andato tu sulla palla, è stata un'indicazione della panchina, perché mi è sembrato che qualcuno avesse urlato il tuo nome, credo non vorrei sbagliarmi. Però poi alla fine è andata bene perché hai fatto davvero un gran gol. È vero, all'inizio era un po' di confusione sul punizione, ma niente, alla fine è finita bene, ho fatto gol, quindi siamo tutti contenti. Poi la prossima la mette Masciangelo e fa gol pure lui, quindi è finita benissimo. Ok. No, perché la punizione era da vicino e ho visto che ci sono stati tanti giocatori alti in barriera, quindi era difficile metterla su, o metto sul posto di portiere, ho fatto bene, ho fatto gol, quindi è finita benissimo, come ho detto. Senti, ti stai guadagnando una forza da titolare, te lo stai piano piano guadagnando, è questo il vero Vokic o dobbiamo vedere ancora di più? Non ho sentito, scusa, devi ripetere. Dicevo, scusami, è questo il vero Vokic o puoi dare ancora di più? No, no, ti dico subito che questo è solo l'inizio, perché non sto bene ancora fisicamente, avevo un infortunio, ero fuori da sei mesi, quindi mi manca tanto. Per questo ti ho detto prima che questa vittoria è arrivata in un momento giustissimo, perché ora arriva la sosta e devo lavorare tanto, perché mi devo migliorare fisicamente, ma già ora mi sento bene, perché sono contentissimo di avere opportunità, di dimostrare il mio valore, ho ancora tante cose di dimostrare sicuro. Come le caratteristiche, come ti descrivi? Non lo so, io mi sento benissimo quando gioco, quindi dove mi mette mister io faccio il mio migliore, quindi mi sento benissimo al trequartista e poi se mi mette mister in un altro ruolo faccio pure lì il mio migliore. Lì c'è solo uno, è vero, è il mio idolo, ma lì c'è solo uno, io sono Vokic e faccio tutto per dimostrare che sono più forte di lui.